Ciao a tutti amici, bentornati qui sul mio canale. Oggi un altro appuntamento dedicato a batteristi nostrani. Nello specifico vi parlo di una mia vecchia conoscenza, Michele Sanna. Michele Sanna è un ragazzo della Sardegna, l'ho conosciuto tantissimi anni fa, parlo dell'epoca ancora di MySpace, e che negli anni ha lavorato veramente tanto ed è arrivato a fare delle cose veramente, veramente pazzesche. Attualmente sta suonando con i gammarei in sostituzione del loro attuale batterista. Quindi che dire ragazzi, dalla Sardegna ai gammarei, proprio come il titolo del video. Ma dietro Michele c'è una storia veramente lunga, fatta di tante collaborazioni in ambito underground e non solo. Allora, innanzitutto Michele ad un certo punto, seguendolo su Facebook, l'ho visto diventare un drum tech molto competente che infatti ha iniziato a collaborare con Primalfiar e Manowar, tanto per fare un paio di nomi. Da qui, se non ricordo male, è diventato poi il drum tech di Alex Holtzworth, batterista dei Rhapsody, e questa cosa l'ho apportato poi addirittura a sostituire Alex Holtzworth in alcuni live del progetto Turilli Lione. Quindi che dire ragazzi, come ho detto nel video di Fabio Alessandrini, io sono contentissimo quando vedo queste cose. E' sempre bello che ci siano musicisti nostrani, non mi stancherò mai di dirlo, che conquistano determinate vette nel mondo musicale, diciamo, a livello mondiale. Comunque gli ammarei ragazzi perché vogliamo di una delle power metal band più storiche che ci siano, collaborare come drum tech, con i Manowar, i Primalfiar, insomma, tutte situazioni veramente belle che comunque portano un musicista italiano a lavorare appunto con grandi personaggi. Adesso mi sono scritto qui, ho preso carta e penna perché sono veramente tante le collaborazioni, vi vado diciamo ad elencare appunto la discografia di Michele. Perché lo faccio? Perché ci tengo che si sappia, ok? Perché spesso magari le varie lingue tendono a dire, ah ma quello è arrivato lì perché ha raccomandato, ah ma chissà che cosa ha fatto prima, Michele che cose ne ha fatte tante. E adesso ve le vado a leggere. Innanzitutto, tra le collaborazioni passate ci sono come band Deadalus in Bloom, il Frontiers All Star Project della Frontiers Record, i Misbelieving, i One Machine, dove se non mi ricordo male la chitarra c'era Steve Smythe che ha suonato sia con i Testament che con i Nevermore, e i Shardana. Tra le altre collaborazioni in cui ha registrato degli album c'è la sua storica band, i Coma con cui ha fatto due album, i Grimer, i Lunarian con cui ha registrato un album, i Samstock con cui ne ha registrati tre, i Seat Oblivion, un album, i The Hair in Ice due album, e i Wisdom Tree con cui ha registrato un album. Quindi parliamo di un ragazzo che comunque si è fatto veramente il culo, sia dal vivo che in studio, ha collaborato anche con gli Screaming Shadows, una band fichissima della Sardegna, e che di esperienza ne ha maturata tanta nel tempo. Ed io non posso che essere felice di vederlo su questi grandi palchi e gli auguro veramente il meglio, gli auguro altri mille anni di palchi così grandi. Adesso vi lascio un suo video così lo vediamo in azione, con i Luca Turillis Rhapsody, no scusate con i Lione Turilli Rhapsody, questi hanno fatto talmente tante varianti che mi confondo pure io. Quindi lo vediamo su un grande palco in azione con dei musicisti che sono sulla breccia da tantissimi anni a pedalare come un matto. Che dire ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, tutte le volte che avrò modo farò anche appunto dei video dedicati a musicisti italiani che stanno lavorando tanto all'estero. Come sempre vi ricordo che ci sono anche tutti i podcast delle mie dirette, delle interviste che faccio con i batteristi italiani, questo perché insomma un occhio all'underground serve sempre. Se il video vi è piaciuto un like, un commento, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!